vediamo la funzione generatore di vapore il nuvola ha due caldaie una che ci dà la comodità della ricarica continua quindi vapore sempre pronto e senza attese e l'altra che ci dà la funzionalità della pressione quindi vapore sempre efficiente e potentissimo ben 160 gradi guardate che getto di vapore o meglio che forza della natura visto che parliamo di semplice acqua con il nuvola simac sarà semplicissimo anche pulire l'interno del forno basta il giusto vapore per sgrassare e poi aspirare il tutto ma attenzione senza usare detersivi ed acidi questa è la caratteristica che ne fa uno dei sistemi più ecologici oggi esistenti sul mercato perché nuvola ama la natura con il potente getto di vapore si può sciogliere il calcare dai rubinetti quante volte avete trovato il rubinetto intasato dal calcare grazie alla versatilità del nuvola pulire l'auto sarà un gioco da ragazzi cominciando dal motore i cerchioni e persino gli interni in pelle che come sappiamo sono i più delicati dateci la possibilità di dimostrarvi che questo non è un sogno ad occhi aperti se amate l'ambiente e volete rispettare la natura adottate nuvola la strabiliante soluzione per la pulizia e ricordate che nuvola è un prodotto simac un mondo di soluzioni